Bene, diciamo che il mio intervento intende ripercorrere brevemente da dove siamo partiti e dove siamo oggi con il catalogo Pater e con Samira che è la sua piattaforma gestionale. Partiamo da una data, il progetto del catalogo digitale del patrimonio culturale nasce tra la fine del 2007 e il 2008 e nasce allo scopo di mettere a punto un sistema informativo per la gestione integrata di tutte le banche dati realizzate a partire già dalla metà degli anni 90, dall'allora IBC, oggi appunto quello che siamo oggi, settore patrimonio culturale. Per la consultazione e valorizzazione delle proprie attività di catalogazione e censimento. Un sistema quindi che aveva un'area gestionale e prevedeva anche un'interfaccia web di fruizione e ricerca rivolta al pubblico che è quella diciamo che vedete qui in alto a sinistra, era la vecchia interfaccia appunto del catalogo. E' invece appunto nel 2015 che viene dato invece avvio al progetto Pater, patrimonio dell'Emilia Romagna, per la creazione appunto di un nuovo portale che doveva essere aggiornato ovviamente con un linguaggio più divulgativo, quindi che potesse rivolgersi a un pubblico più ampio, non soltanto di specialisti del settore, che offrisse una modalità di ricerca più immediata simile a quella dei motori di ricerca in uso e una navigabilità che permettesse ovviamente una interconnessione tra le varie schede che appunto risiedono all'interno del catalogo. Il portale Pater ufficialmente viene messo in linea nel 2016, quindi uno strumento, quindi 2007-2008-2016, uno strumento che nel corso di questi anni ovviamente è cambiato, è cresciuto, si è trasformato, adattandosi ovviamente agli sviluppi dell'informatica, quindi è un ambiente che cerca di essere ovviamente per quanto sia possibile in continua trasformazione, non solo da un punto di vista tecnico che è necessario ovviamente per stare al passo con il cambiamento della tecnologia, ma anche per quel che riguarda ovviamente i contenuti che si sono arricchiti e continuano ovviamente a farlo, grazie soprattutto all'apporto di tutti gli operatori che contribuiscono al suo accrescimento. Ad oggi il catalogo del patrimonio conta circa 250.000 schede di varia tipologia, distinte diciamo tra tracciati ministeriali e tracciati nativi, cioè creati per le esigenze del nostro settore, che possiamo raggruppare in queste tre macro categorie, quindi luoghi culturali intesi come musei, teatri storici, casi studi degli illustri, architetture moderne, parchi e giardini, siti archeologici, il patrimonio culturale che fa la parte del leone come si vede dalla percentuale, che è ovviamente il patrimonio che risiede in gran parte all'interno di questi luoghi culturali, e poi un'altra categoria che è quella delle risorse dati di corollario, quindi risorse autoriali, risorse bibliografiche e altre risorse per esempio che afferiscono anche l'attività di restauro svolte nel corso appunto degli anni, prima dall'Ibc e oggi dal settore patrimonio. Un catalogo che ha una dotazione appunto fotografica che ammonta a più di 407 mila immagini in formato JPEG, che vengono automaticamente visualizzate sul portale in tre formati, formato piccolo, medio e grande, ovviamente per facilitare la loro fruizione da parte degli utenti del web, ovviamente. Un catalogo che dà i dati estratti dal servizio di monitoraggio che ci permette di analizzare ovviamente il portale, mostra come si vede appunto dalla tabella, che elenca gli accessi da quando il portale Pater appunto è stato messo in linea ad oggi, mostra appunto come gli accessi siano stati pressoché sempre in crescita, con alcuni salti importanti, quello soprattutto che si nota tra il 2016 e il 2017, che è proprio lo spartiacque tra la vecchia piattaforma web in uso presso la loro IBC e appunto il portale Pater e comunque un andamento che nel corso degli anni è stato sempre in crescita. Si nota anche in questo grafico dove la linea rossa tratteggiata è sempre il solito spartiacque tra il prima e il dopo, quindi il dopo è il portale Pater dove ovviamente la linea è progressivamente in crescita con una flessione diciamo nel 2021 che è stata poi successivamente recuperata e anche superata. Un monitoraggio che consente di acquisire anche altri dati utili, soprattutto per comprendere alcuni cambi di tendenza che sono sempre utili anche per eventuali considerazioni e progettazioni, infatti come mostra questo grafico, dove dal confronto degli accessi al portale fatti da PC e smartphone si evince praticamente un cambio di abitudine di dispositivi utilizzati dove c'è proprio intorno al 2020 un sorpasso praticamente degli accessi da dispositivi mobili rispetto per esempio alla consultazione da PC normale. Dai monitoraggi emergono ovviamente anche altre informazioni per noi utili ovviamente come per esempio l'analisi dei luoghi di accesso al portale che mostrano ovviamente un'apertura geografica extra regionale come mostrano appunto le prime città elencate, quindi un'apertura su tutto il territorio nazionale e non solo anche su un'apertura extra nazionale perché ovviamente abbiamo degli accessi anche da località estere. Questo devo dire che è il frutto, diciamo è l'esito di tutto il lavoro che è stato fatto di ottimizzazione del catalogo sulla base delle regole SEO, le dico in italiano anche se sarebbero forse SEO, non so, per la ricercabilità appunto dei nostri dati sul web. Quindi concludo sinceramente dicendo questo, che per noi questo 2023 si chiude diciamo con un incremento degli accessi del più 24% rispetto all'anno scorso e un incremento patrimoniale sostanziale che è alimentato sia dalla catalogazione finanziata con le risorse dei piani annuali, ma ultimamente devo dire anche grazie all'attività di catalogazione partecipata in collaborazione appunto con gli istituti culturali, nello specifico soprattutto i musei. Quindi è proprio in questo panorama di miglioramento che si è inserito, e posso dire felicemente, questo recente sviluppo della piattaforma gestionale, è stato appunto attuato soprattutto per offrire migliori performance, quindi come si diceva prima, per stare al passo con gli sviluppi della tecnologia e appunto nuove funzionalità a vantaggio ovviamente di tutti quegli operatori che utilizzano appunto il nostro sistema per la gestione e catalogazione del loro patrimonio culturale. E questa attività diciamo attuata al momento nell'area gestionale speriamo appunto sia propedeutica a un prossimo intervento migliorativo che speriamo appunto interessi invece l'interfaccia di consultazione del portale Pater perché ovviamente vogliamo cercare di migliorare anche l'aspetto di fruizione diciamo per il pubblico ovviamente per migliorare la consultazione e la navigabilità appunto del nostro sistema. Lascio appunto questa slide solo per indicare un indirizzo email di riferimento da utilizzare per rivolgerci qualsiasi tipo di domanda, approfondimenti che semmai possono essere, che possono nascere al termine anche di questa ora di presentazione per prendere appunto contatto con noi riguardo al catalogo Pater. Con questo vi saluto e vi ringrazio.